Oh Dio 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 lo scorso 26 marzo, a seguito di una retata all'interno della casa famiglia Oscar Patrizia nel Ravennate, che stando alle accuse, i due gestivano in maniera criminale, sottoponendo gli ospiti, tutte persone anziane, a torture fisiche e psicologiche. Una constatazione, dicono gli inquirenti, confermata da diverse prove. La prima di queste riguarda il filmato registrato poche ore prima dell'arresto dei due gestori che picchiavano una donna anziana in bagno, per poi legarla con delle catene e rinchiuderla in uno sgabuzzino al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine. Alle prove registrate con le telecamere nascoste si aggiungono poi le registrazioni ambientali e la testimonianza di un'operatrice che aveva prestato servizio nella casa, assistendo, a suo dire, a botte, insulti e minacce. In questo momento i due imputati si trovano fuori dal carcere in attesa del processo. Lamberto Grilli, 63 anni, di Ravenna, ha ottenuto gli arresti domiciliari, mentre la sua assistente, Lenuta Avram, 49 anni, di origini rumene, è stata scarcerata con l'obbligo di firmare ogni giorno in caserma. Ora che il quadro accusatorio è stato delineato, la palla passa alla difesa, guidata dall'avvocato Francesco De Angelis, che nei prossimi giorni studierà le carte prodotte dalla procura per elaborare la strategia da portare in aula.